Angella Cerbi, Fremium Radio, dal Festival di Torino, 35esima edizione di Torino Film Festival. Siamo qui con Matilda Lutz, attrice principale e che principale di Revenge, di Coralie Fariscià. Il tuo film è in After Hours, una sezione che di solito ha film un po' edgy, un po' strano, e un po' di genere, anche tu hai decisamente un film di genere, ed è la storia di una vendetta femminile, di una ragazza che viene usata, uccisa credo, e poi invece risorge come un'aquila e poi fa un disastro, fa una strage in tutti i sensi. Senti, leggendo le noti di regia di Coralie, lei dice che il film è praticamente la storia di un'evoluzione, quasi dell'evoluzione femminile, cioè all'inizio del film il tuo personaggio è la classica donna oggetto, bellissima, in una situazione paradisiaca, con quest'uomo fantastico, che però viene oggettivizzata in quanto troppo bella. E poi, ovviamente, l'esagerazione maschile verso questo oggetto di bellezza crea quello che poi succederà. E tu sei, lei dice che il tuo personaggio è quasi una mutante, tu ti sei sentito una mutante? Cioè lei considera anche tu questo punto di vista? Anche io l'ho considerata così. Diciamo che proprio quel momento lì di rinascita non è tanto verosimile, quindi abbiamo giocato molto su quella trasformazione lì. Non avendo avuto tanto tempo per preparare il personaggio, mi sono dovuta completamente affidare a Coralie. C'è stato da subito un rapporto di fiducia con lei, mi guidava in tutto e per tutto quello che sentivo, quello che dovevo dire, quello che facevo. E abbiamo giocato proprio sulla trasformazione di questo personaggio da debole e provocante a Pantera. Ed è proprio quello a cui ho pensato per la seconda parte del film. Proprio un animale, quindi quello che sentiva a livello olfattivo e uditivo. E cercare di proprio far vedere quel lato animalesco di Jen. Senti, la preparazione fisica deve essere stata un indifferente, credo. Perché sembra un film molto faticoso. Sì, diciamo che quando ho letto la sceneggiatura non pensavo sarebbe stato così faticoso. Il fatto che Coralie abbia scelto come location in Marocco e quindi... Però abbiamo girato a febbraio, quindi faceva un freddo allucinante. Nonostante sembra un caldo pazzesco. Quindi quella è stata, secondo me, forse la difficoltà. E poi il fatto che fossimo comunque in location in mezzo al nulla, a girare in bichini con il freddo, a piedi nudi, a correre nel deserto. L'arma era un'arma vera che pesava tre chili. E Coralie mi chiedeva di fare delle scene di due minuti. Quindi io ad un certo punto avevo le braccia che proprio mi cedevano. E credo che abbia fatto anche apposta il fatto di non farmi fare allenamento con le armi. Perché voleva che io avessi difficoltà con l'arma durante il film. Esattamente come il personaggio avrebbe. Perché lei non era una Rambo. Esatto. Quindi a livello fisico non c'è stata una preparazione prima. Diciamo che c'è stata durante il film. Quindi alla fine del film proprio mi sentivo Tom Ryder. Difatti sembra un po' un incrocio tra Mad Max e Lara Croft. Esatto. Cioè quello che deve sopravvivere a tutti i costi, a prescindere da quello che gli succede accanto. Senti, il film è un tributo agli action movie maschili, anche se il personaggio è femminile, e anche un po' alla tradizione del grand guignol francese, dell'oro, dello splatter. Come avete lavorato con Coralie? Perché c'è veramente un perfetto bilanciamento tra questi due generi all'interno del film. Cioè ci sono delle scene decisamente splatter, che però sono necessarie, anche se la quantità di sangue è a volte un po' esagerata. E poi ci sono dei momenti di action movie puro. Allora, per questo devo dare credito completamente, 100% a Coralie. Perché sul set tantissime volte, eravamo stanchissimi, facevamo 16 ore sul set, poi io avevo tre ore e mezza di preparazione una mattina per tutte le cicatrici, tatuaggi, eccetera. E poi avevo un'ora e mezza di togliere tutte le cicatrici, docce, cose. Quindi diciamo che veramente non dormivo mai, eravamo proprio stanchi. E lei arrivava alla fine della giornata, dopo non so, tre, quattro ore di straordinari, che chiedeva ancora di andare avanti. Un giorno siamo arrivati a 17 ore e mezzo. Quindi lo sfinimento sul tuo viso era reale. Sì, era reale. Infatti gli occhi gonfi della scena della caverna, tutti mi dicono, ma come hanno fatto questi effetti speciali a fare gli occhi gonfi così? Quelli erano proprio occhi gonfi. L'effetto speciale si chiama non dormire. Esatto, però tante volte lei chiedeva delle cose. Arrivavamo appunto a 16 ore di set e lei diceva, io devo fare il dettaglio sugli insetti. E tutti che dicevano, ma tu sei fuori di te. Cioè nessuno, c'era parte della crew che se ne andava, nessuno la stava ad ascoltare. Invece, e ci chiedevamo tutti, ma perché vuole questi inserti sugli insetti? Poi quando vedi il film, è una cosa talmente funzionale al film. Quindi tantissime volte è successa questa cosa dove lei sembrava tipo lei contro tutti, no? Un po' come Jen nel film. Esatto. Perché nessuno capiva che cosa lei volesse fare. E poi guardando il film, dopo montaggio, suono, eccetera, capisci perché lei si impuntava così tanto su queste cose qua. E la cosa del sangue, adesso non voglio dire una cavolata, ma mi pare di ricordare che hanno usato 36 litri di sangue sul set. Ah mamma mia, guarda, si vede. Posso dirti che tutta la sequenza finale si vedono tutti, tutti e 36 proprio. E infatti c'erano i ragazzi degli effetti speciali che erano disperati perché nessuno si immaginava dalla sceneggiatura che ci sarebbero stati così tanti litri di sangue. E quindi tipo non avevamo più buckets, secchielli di sangue. E quindi prendevano il sangue vero, cioè il sangue vero, il sangue quello nelle bottiglie e lo diluivano per averne di più, lo facevano spedire da Parigi, quindi arrivava sangue in continuazione. Perché c'era ancora lì che prendeva questi secchielli e li lanciava. Ma comunque... A caso. Ci siamo divertiti, immagino. Ci siamo divertiti tantissimo. La location è... Abbiamo girato un po' il Marocco. Abbiamo girato in 4-5 location diverse, in mezzo al deserto, poi vicino a Marrakesh e Wurzazad. Quindi proprio anche... Sì, bellissima. Quindi anche proprio girare in Marocco è stato in sé divertente. Poi tutto l'aspetto degli effetti speciali è una cosa che a me piace da morire. Quindi vedere tutto il behind the scenes degli effetti speciali è stato pazzesco. Poi diciamo che siamo proprio diventati amici perché passavamo praticamente 4 ore la mattina, alle 3 del mattino, fino alle 8 del mattino a prepararci. Quindi io mi ricordo all'inizio del film, dato che avevo cicatrici, tatuaggi, eccetera, ovunque, non c'era una posizione in cui potevo sedermi o sdraiarmi, eccetera, perché erano ovunque. E quindi mi facevano stare in piedi così. Alla fine del film siamo arrivati che io mi sdraiavo comunque, non ce la facevo più. Esatto. Senti, come sei entrata in questo progetto? Come sei stata contattata? Sono tre anni e mezzo che vivo a Los Angeles, però è sempre stato un sogno per me nel cassetto lavorare in Francia. E quindi ero appena stata a Parigi a incontrare agenti, casting director, per iniziare a vedere. Conoscere, ecco. E ho conosciuto l'agente francese di Coralie, che dopo qualche mese mi ha contattato per email dicendomi una mia cliente regista viene a Los Angeles per degli incontri, ha un film che molto probabilmente si girerà l'anno prossimo. Secondo me, saresti perfetta, dovreste incontrarvi. E quindi ci siamo incontrate ad un bar, abbiamo parlato per due ore come se ci conoscessimo da sempre. Il giorno dopo mi ha chiesto di fare un provino nella sua stanza di hotel alle 6 del mattino, ho fatto questo provino per un'ora e mezza, dove erano tutte scene fisiche. Quindi abbiamo fatto la scena quella dove lei viene infilzata dall'albero. E poi mi ha chiesto altri 5-6 provini, dove mi chiedeva prima di mettermi la parrucca bionda, poi le unghie finte, poi di fare, non so, un balletto con questa canzone, poi con un'altra canzone. Quindi ho visto da subito la passione per questo progetto. Poi lei erano tre anni che ci lavorava su, tra scritture, trovare i finanziamenti, perché comunque non è facile per un film del genere, soprattutto in Europa o comunque in Francia. Poi è paradossale, perché poi su un film del genere si fa e viene bene come questo, perché tutti vorranno ricopiarlo, ma il primo è sempre più complesso. Esatto, quindi c'è stato da subito proprio un bel rapporto con Coralie. Bene, siamo molto contenti di vi siete incontrate, perché a me noi abbiamo visto un film molto divertente, che io consiglio vivamente a tutti. Matilda Luz, attrice di Revenge, di Coralie Fargeat, a Torino, al Torino Film Festival, nella sezione After Hours. Io sono Angela Cerbi per Fred Festival Insider.